Nuova udienza questa mattina nel Tribunale d'Imperia per il processo relativo alle violenze e i danni degli anziani ospiti della Casa di Riposo Borea di Sanremo che erano state messe in luce da un'operazione della Guardia di Finanza nel gennaio del 2012. La pubblica accusa ha chiesto un anno e otto mesi di reclusione per Rosalba Nasi all'epoca dei fatti presidente della Casa di Riposo e accusata di omessa vigilanza e sei mesi per Benito Vitale all'epoca dipendente della struttura. Chiesta invece l'assoluzione per Stefano Bisiani, presidente di una cooperativa sociale che metteva a disposizione personale alla Casa di Riposo Sanremese. I difensori degli imputati hanno chiesto l'assoluzione dei loro assistiti, in particolare Alessandro Magher che difende la Nasi ha evidenziato che la sua cliente non poteva neppure immaginare le violenze messe in luce dalle telecamere nascoste della Finanza mentre il legale di Vitale ha sottolineato che il suo assistito ha compiuto soltanto un gesto di intemperanza in un'occasione dovuto a un momento di nervosismo. L'udienza nella quale dovrebbe essere emessa la sentenza è stata fissata per il 24 marzo.